Ciao ragazzi, in questo video vi racconterò la mia opinione su Facile Ristrutturare, l'azienda di ristrutturazioni più famosa d'Italia. Prima di arrivarci, cerchiamo però di capire come funziona il loro servizio e qual è l'offerta di questa azienda, che vuole semplificare il processo di ristrutturazione. Lasciate un mi piace sulla fiducia e iniziamo! Innanzitutto, cos'è Facile Ristrutturare? Facile Ristrutturare è un'azienda italiana nata nel 2014 che offre un servizio di ristrutturazione chiave in mano, con un solo interlocutore per tutta la durata dell'intervento, dal sopralluogo alla consegna del cantiere. Per gestire il suo servizio, l'azienda si appoggia a delle sedi locali, che sono distribuite in tutta Italia, e collabora con dei professionisti del settore come gli architetti, i geometri, gli artigiani e delle aziende dell'edilizia e dell'arredo, come ad esempio i produttori di arredo bagno, di serramenti, di pavimenti ed altri ancora. A livello pratico, l'appaltatore dei lavori è facile ristrutturare, che a sua volta subappalta l'esecuzione delle opere a imprese edili, oppure ad artigiani, oppure l'affida ad operai dipendenti. L'interlocutore unico del committente in tutte le fasi dell'intervento sarà il tecnico scelto da facile ristrutturare, che spesso e volentieri è un architetto. Il tecnico si occupa del sopralluogo, del progetto, della consulenza per la scelta dei materiali e delle finiture, del preventivo dei lavori, della direzione dei lavori e di una parte della cosiddetta burocrazia, come ad esempio la pratica edilizia. Il prezzo della ristrutturazione di facile ristrutturare parte da 299 euro al metro quadrato. L'importo comprende i materiali per le lavorazioni, come i tubi, i cavi e così via, ed esclude l'iva, i materiali di finitura, come pavimenti, rivestimenti, serramenti ed altri ancora, e i costi per l'eventuale asseverazione per lo sconto in fattura. Così c'è scritto sul sito ufficiale, ma dal preventivo che ho ricevuto rimangono escluse altre voci, che poi vedremo. In pratica, con 299 euro al metro quadrato, non si ottiene un immobile finito e pronto all'uso. Per sapere il prezzo finale del vostro progetto, dovrete chiedere un preventivo al tecnico della sede che contatterete. Per completezza, segnalo anche che l'offerta originaria era di 249 euro al metro quadrato. Come avrete capito dal titolo del video, io non vi consiglio di contattare questa azienda per i vostri lavori di ristrutturazione. Ho varie ragioni per sconsigliarla, ma i motivi principali e più importanti sono tre. Come prima cosa, secondo me, il sistema usato da facile ristrutturare, che mi ricorda il franchising anche se non è un franchising, non è un sistema adatto al mondo delle ristrutturazioni italiane. Teniamo conto che l'obiettivo dell'azienda è semplificare il complicato processo della ristrutturazione, tramite un modello di business replicabile e uniforme. Quindi ciò che viene fatto a Milano a livello operativo è identico a ciò che viene fatto a Torino, a Roma e nelle altre città dove c'è una sede di facile ristrutturare. Nei settori con processi standardizzati e più snelli, cioè più semplici, e anche con meno rischi per i clienti, questo modello di business funziona. Dei sistemi simili vanno bene, ad esempio, per le catene di fast food, perché a livello operativo c'è bisogno di qualcuno che prepari i panini e praticamente chiunque può fare dei panini senza bisogno di particolari competenze e i rischi per i clienti sono limitati. Diciamo che mal che vada il panino non è fatto bene, o comunque non è buono, e il cliente si arrabbia. Ristrutturare gli immobili però è tutta un'altra cosa. Intanto non è un processo standardizzato, ci sono molte variabili da un cantiere all'altro, anche sui mobili simili e dello stesso periodo di costruzione, e poi ci sono tanti rischi per il committente e per l'impresa. Senza contare che la classica ristrutturazione di un appartamento, anche di un piccolo appartamento, prevede molti obblighi per il committente e per l'impresa, ma anche delle sanzioni pecuniarie e penali in caso di problemi. Per ridurre al minimo i rischi in tutte le fasi dell'intervento, c'è bisogno di un'attentissima selezione dei collaboratori dei cantieri, quindi per lo più i tecnici, le imprese e gli artigiani. Facile ristrutturare. Come seleziona i suoi collaboratori dei cantieri? Secondo il sito ufficiale, le imprese vengono selezionate dallo store manager in base a garanzie, certificazioni, referenze e portfoglio di lavori eseguiti in precedenza. In base alla mia esperienza col canale YouTube e con il blog, se vuoi capire come lavora un professionista, devi metterlo alla prova. Io l'ho fatto con le imprese edili, con gli artigiani, con i tecnici, con i rivenditori di materiali edili e arredamento. Vi dico anche che all'inizio non è andata molto bene, cioè alcune collaborazioni le ho interrotte quasi subito perché mi sono reso conto che queste persone non erano dei veri professionisti. E da queste vicende ho capito che la selezione dei veri professionisti richiede tempo. Le grandi aziende, come Facile Ristrutturare, non possono seguire o comunque affiancare in anticipo le imprese tecnici, giusto per capire come lavorano su altri cantieri esterni, perché arrivano tanti nuovi clienti e i contratti vanno chiusi. Quindi presumo che la selezione dei collaboratori sia piuttosto rapida. Si prendono subito degli accordi e si inizia a lavorare. Io ho dei seri dubbi sull'efficienza di questa formula in un settore complesso come quello delle ristrutturazioni, che richiede competenze particolari, che richiede specializzazioni a seconda dell'intervento, che ha molti rischi, anche rischi seri, per il committente e per l'impresa. E il mio dubbio principale riguarda la selezione dei collaboratori dei cantieri. Mi chiedo come sia possibile trovare così tanti veri professionisti in breve tempo e senza fare un giusto affiancamento. Tornando all'esempio del fast food, se una persona appena conosciuta e assunta fa un panino terribile, il cliente magari protesta ma non è un danno grave e costoso e comunque il panino si può rifare subito. Al contrario, se un idraulico appena conosciuto è incapace e fa degli errori sull'impianto idrico sanitario, spesso lo si scopre a cantiere ultimato. A quel punto bisogna demolire e in queste situazioni gli errori ricadono sui committenti. Il secondo motivo per il quale sconsiglio l'azienda è perché fanno dei preventivi online. Sul sito ufficiale trovate una pagina dove in circa 60 secondi potete chiedere un preventivo, chiamiamolo preventivo, per la vostra ristrutturazione. Vi basta inserire pochissime informazioni. Informazioni che però spesso il committente nemmeno possiede, come ad esempio quali sono gli impianti da rifare. Il preventivo inviato via email non è un computometrico estimativo dettagliato, completo e personalizzato. Rimangono esclusi demolizione e ricostruzione pareti, pavimenti e rivestimenti, arreddo bagno, porte, finestre e battiscopa, radiatori ed accessori annessi, la cassetta di risciacquo, colle e stucchi pavimenti, quadro elettrico, citofono e lampade di emergenza, la fornitura ed il montaggio dei condizionatori. Ciò che riceverete non è un preventivo chiave in mano e io mi chiedo quale sia l'utilità di questo servizio, dal momento che la cifra salirà forse parecchio durante la definizione del progetto. Senza contare che oltre alle opere edili c'è la parte burocratica, che riguarda tutte le ristrutturazioni e che ovviamente non è segnata nel preventivo online. All'elenco di prima dovete quindi aggiungere alcune di queste voci sono forse già comprese nella parcella del tecnico, ma solo alcune. Ma parliamo comunque di spese burocratiche che secondo me incidono per almeno 2.500-3.000 euro. Poi dipende dal progetto. Secondo me dei professionisti della ristrutturazione non dovrebbero mai fare dei preventivi online. A maggior ragione non si dovrebbero fare dei preventivi quando non si conoscono le reali esigenze dei clienti, le reali condizioni dell'immobile e della zona di lavoro. Ricordiamoci che ci sono delle aree di allestimento cantiere piuttosto complesse. Sicuramente questi moduli producono tanto interesse e tanti nominativi, ma secondo me non aiutano in alcun modo i committenti, anzi semmai mettono confusione. E non mi sembra un buon sistema per semplificare l'esperienza della ristrutturazione. Il terzo ed ultimo motivo è la questione delle recensioni negative. Su Facile Ristrutturare troverete recensioni positive e negative. Quelle negative contengono delle ricorrenti problematiche che mi lasciano perplesso, anche in virtù del fatto che parliamo dell'azienda italiana leader per le ristrutturazioni. Molti clienti insoddisfatti evidenziano queste criticità. Tante testimonianze le trovate nei gruppi Facebook dell'edilizia e dell'arredo, dove a volte ci sono anche le foto delle opere, oppure su Trustpilot e in altri siti. Nei gruppi Facebook però è possibile approfondire le storie e le esperienze dei committenti. A proposito di testimonianze, sul canale YouTube della redazione di Quinto Potere ne trovate una piuttosto eloquente. Si tratta di un cantiere di Facile Ristrutturare dove forse non hanno lavorato degli operai qualificati e specializzati dal momento che l'acqua dello scarico del WC esce nella doccia. Giusto per fare un esempio. Nella descrizione vi lascio il link del video in questione. Senza dubbio Facile Ristrutturare è un'azienda onesta e con buone intenzioni, ma personalmente non la consiglierò mai sul canale. Sono un po' di anni che li osservo, ho visto che il gruppo è cresciuto e continua a crescere. Purtroppo le criticità che ho citato continuano ad essere presenti anche nelle nuove recensioni e bene o male parliamo sempre degli stessi problemi. A mio avviso, la rapida crescita è forse il problema principale di Facile Ristrutturare. Come ho detto, la selezione dei professionisti dei cantieri richiede tempo, ma non credo che l'azienda abbia molto tempo, perché i potenziali clienti e committenti sono tanti e non vanno persi. L'azienda chiude oltre 6.000 cantieri all'anno, che sono tantissimi, soprattutto a fronte delle 70 sedi sul territorio. In genere, quando leggo le recensioni negative su questa azienda, mi vengono in mente tre domande. La prima, non c'è il rischio di chiudere troppi contratti rispetto alla forza lavoro? La seconda, come fanno a trovare rapidamente tanti operai qualificati? La terza, è davvero possibile offrire prezzi accessibili senza compromettere la qualità del servizio? In sostanza, questa era la mia opinione. Chiedo anche a voi che guardate il video di condividere la vostra e mi rivolgo a chi ha già utilizzato il servizio, a chi li conosce solo di nome e anche ai professionisti della ristrutturazione, quindi i tecnici, le imprese edili e gli artigiani. Ragazzi, mi raccomando, cerchiamo di mantenere un tono educato nei commenti, non ho voglia di cancellare i commenti, e cerchiamo di stabilire un dialogo costruttivo e utile per tutti. Ovviamente, invito Facile Ristrutturare a dire la sua, qualsiasi comunicazione dell'azienda verrà pubblicata sul canale, sul blog e tramite la newsletter. Se il video è stato utile, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale attivando le notifiche. Ci vediamo alla prossima puntata, qui su Voglia di Ristrutturare. Un saluto a tutti da Lorenzo. Ciao ragazzi! Grazie! Grazie.